Comunque vedo che ha bisogno di un consiglio responsabile più di quanto credessi. Nessuno fa niente che abbia valore senza una laurea. Nessuno fa niente che abbia valore con la laurea. Nessuna donna almeno. Allora quello che faccio io non ha valore. O Miss Tubbs, o Mrs. Wilson, o chiunque di noi. Perché noi non saremmo qui senza una laurea, questo lo capisce spero. Eh sì, studiare è duro, è noioso. Appunto! Come scusi? Studiare è duro e noioso. Insegnare è duro e noioso. Quindi lei mi sta dicendo che mi annoierò e mi annoierò. E insomma mi annoierò, ma questa volta per tutta la vita. Tutto questo stupido paese si annoia. Non c'è vita, né colore, né divertimento. Quindi tanto vale che i russi vengano a buttarci una bomba atomica adesso. E la mia scelta è tra studiare e annoiarmi. E sposare il mio ebreo. Andare a Parigi e a Roma, ascoltare jazz. Leggere, mangiare bene in bei ristoranti e divertirmi. Non è sufficiente darci un'istruzione, Miss Walters. Ci dovete dire perché lo fate. Non c'è soltanto la scuola, sa? C'è la pubblica amministrazione. Non voglio essere impertinente, Miss Walters. Ma è un argomento che dovrebbe ripassarsi. Non si sa mai, qualcun'altra potrebbe chiederle lo scopo di tutto questo. Non c'è soltanto la scuola. Non ho 용ano. Differenti due le passeo, ma'illa chiare ci sono un'istruzione. Che va bene,orrò. Chiavano anche la buona parola. Grazie buona, amici. No se